Un momentaccio è sicuramente il volley femminile, Limoco Conegliano, mai ce lo saremmo aspettati, insomma si sta complicando la vita, il campionato e anche la Champions futura. Le trevigiane infatti dopo aver vinto il primo set a Pesaro non sono state capaci di vincere e hanno collezionato una pesantissima sconfitta che dal primo posto le ha mandate al terzo posto, costringendo così De Gennaro e compagne ad una rincorsa in salita per centrare anche il pass europeo. De Gennaro è forse in questo momento insieme a Volos, Volos ha sempre parlato, è stata lei a venire ai nostri microfoni dopo la sconfitta di Bologna, De Gennaro si è presa all'interno dello spogliatoio la squadra in mano, però pensiamo che qualche cosina sia successo all'interno di questo benedetto spogliatoio perché non ci si spiegano alcune cose, alcuni meccanismi che sembrano non funzionare più. Le gialloblu hanno collezionato 4 KO in 6 turni e ora iniziano i playoff dove come dicevo prima per i maschi conta soltanto vincere. Limoco sarà in campo domenica prossima 18 marzo alle 17 contro Modena, gara 2 a Modena il 25 e occorrendo gara 3 al Palaverde il 28 e di mezzo il 21 c'è la Champions contro il Kazan. Parliamo di automobilismo adesso con l'annuale cena e festa del...